Al via domani mattina presso il Palazzo di Giustizia di Benevento, gli interrogatori dinanzi al GIP delle otto persone finite agli arresti domiciliari nell'ambito dell'inchiesta sugli appalti che è emestito la provincia di Benevento. Martedì invece toccherà alle dieci persone che hanno invece ricevuto il divieto temporaneo di contrattare con la pubblica amministrazione. Questa ora la fase attesa per meglio delineare la bufera giudiziaria che si è abbattuta sulla rocca dei retturi che ha visto coi molti tra gli altri il presidente di Maria e l'ingegnere il sindaco di Buonalbergo Michele Antonio Panarise. L'attività nasce in questo modo che questo funzionario della provincia nonché sindaco del comune di Buonalbergo viene sostanzialmente chiamato dal presidente della provincia e il presidente della provincia fornisce indicazioni su quale deve essere la ditta che fornirà il nome della ditta che deve vincere. C'è un passaggio molto complesso, ecco perché è un'indagine veramente molto particolare. Il funzionario della provincia nonché sindaco si presenta quindi dal presidente Di Maria, dopodiché ne parla col gruppo di tecnici che erano inseriti in questo contesto e fa chiaramente percepire che deve dare la copertura, un'adeguata copertura tecnica a questi propositi del presidente.